In prova Huawei MediaPad presentato in questi giorni con l'aggiornamento Ice Cream Sandwich Android 4.0 a Las Vegas. Noi lo proviamo con ancora Gingerbread perché nelle caratteristiche generali rimane pressoché invariato. Punti di forza certamente il prezzo e la qualità costruttiva complessiva dell'hardware, limiti, l'autonomia estremamente limitata e un motore, un processore che non è sempre brillante. Ma entriamo nei dettagli della prova. Prende una bella piega il mercato dei tablet, aumentano i competitor, aumentano i vendor, il punto di riferimento anche per questa prima metà dell'anno sarà certamente l'iPad. Ma ci sono delle buone notizie. Si sperimentano delle nuove diagonali e Huawei non è l'unica a proporre un tablet a 7 pollici con display IPS ma nello stesso tempo calano anche i prezzi. Questo tablet è disponibile tra i 349 e i 399 euro e lavora con Android con un display della risoluzione 1280x800 che ha come punto di forza certamente quello che rimane leggibile qualsiasi sia l'angolatura. Diamo un'occhiata allo chassis per vedere che è in alluminio, servirà a dissipare il lavoro del processore che è un Qualcomm Dual Core da 1,2 GHz. È in alluminio con la parte superiore in vetro, la cornice dicevamo 7 pollici 1280x800, i dispositivi di interazione, i pulsanti sono il pulsante di accensione, il controllo del volume e vediamo tre prese di cui una micro USB, una micro HDMI e il pulsante e l'interfaccia per l'alimentazione. Questa è la presa del microfono. Di fianco alla videocamera frontale da 1,3 megapixel c'è il sensore di luminosità ambientale per la luminosità del display. Sul lato posteriore invece certamente una fotocamera più importante da 5 megapixel con la possibilità di riprendere video solo HD. Finiamo l'analisi esteriore del device con l'apertura dello sportello per rilevare la possibilità di inserire schedine micro SD fino a 32 GB e chiaramente la sim per le connettività fino allo standard HSPA Plus 14,4 Mbps. Quindi tutte le carte in regola, quasi tutte, certamente c'è il ricevitore GPS. Funziona con il sistema operativo Android 3.2 Gingerbread. I limiti dal punto di vista della sensibilità del display sono dati per lo più dal giroscopio che lavora su due assi invece che i tre assi dei tablet più evoluti. Così vi accorgerete che l'orientamento delle immagini non può avvenire quando lavorate sul piano orizzontale ma invece sarà relativamente pronto sul piano verticale. Il processore, questo Qualcomm da 1,2 GHz è un dual core, non vi darà assolutamente soddisfazione nei giochi, almeno questa è stata la nostra esperienza con Asphalt, ma per tutte quelle che sono le applicazioni per cui si usa un tablet, le ricerche dicono che si usa prevalentemente davanti alla TV, per quello non noterete nessun tipo di rallentamento. Tenetene conto perché il prezzo è del tutto vantaggioso. Quali sono i punti di forza? Abbiamo parlato del display IPS sempre visualizzabile, abbiamo parlato della presa micro USB ma non abbiamo detto che è una presa di tipo host e quindi potrete collegare oltre a storage esterno supplementare anche tastiere e mouse per un utilizzo più comodo di questo device. Un'ultima nota che non ci è piaciuta per nulla purtroppo è data dall'autonomia della batteria che è decisamente limitata per un oggetto di questo tipo. Si lavora agevolmente per tre ore piene ma l'autonomia dichiarata dal vendor di sei ore è riscontrabile solo in determinate situazioni di utilizzo limite, cioè quando praticamente il tablet è sfruttato solo intorno al 20 al 30 per cento delle sue potenzialità. Per tutto il resto e cioè la possibilità di utilizzare fotocamera e videocamera notiamo la posizione dislocata della fotocamera verso l'alto e invece rileviamo positivamente la dotazione del software che consente ad esempio abbiamo già applicato un effetto di solarizzazione che consente efficacemente l'inquadratura e la cattura degli oggetti ma anche l'elaborazione immediata in macchina grazie al pulsante posto proprio dov'è il display. Per il resto non ci vogliamo soffermare più di tanto sul market e sul sistema Android 3.2 Gingerbread di cui abbiamo parlato ampiamente rileviamo però che alcune applicazioni ci basta parlare di quotidiani online non sono ancora disponibili così come per la piattaforma iPad che è decisamente quella più ricca e nello stesso tempo abbiamo riscontrato che anche altri invece disponibili vanno incontro a dei blocchi a nostro avviso non imputabili all'integrazione hardware e software con questo Huawei MediaPad ma proprio alla qualità applicativa generale di Android a cui manca ancora qualche punto per raggiungere la concorrenza. Bilancio tutto sommato positivo anche perché da un punto di vista invece multimediale ci ha dato soddisfazioni, i diffusori sono decisamente potenti anche rispetto alla media e il prezzo complessivo è di tutta soddisfazione lo ripetiamo 349 euro. Il prezzo di 349 euro è certamente il punto di forza di questo MediaPad Huawei con una qualità costruttiva tutto sommato più che discreta anzi buona. Tenete conto che più smanettoni potranno farlo già da subito che può essere aggiornato ad Android 4.0 facendo chiaramente con il fai da te e non solo ma potrebbe essere definito anche un vero e proprio smartlet perché con la connettività 3G non gli mancherebbe nulla per ospitare l'applicazione per effettuare le telefonate e poi rimarrebbe solo il problema di tenerlo in tasca ma di certo i più abili potranno installare il software per le telefonate e utilizzarlo anche come smartphone di riserva.